Cari amiche, cari amici, cari viandanti, cari tutti, ben trovati ancora sul mio canale e benvenuti di nuovo. Oggi andiamo ad imparare un lavoro, inutile che mi ripeto, ma tanto poi mi ripeto, sempre molto 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 antico, molto vecchio, molto molto efficace. Questo lavoro va ad avvalersi, a chiedere a She, quindi potenza, energia, protezione, forza meravigliosa, a uno Risha estremamente importante che è Ogum, Ogum, che spesso è rappresentato come San Giorgio nel sincretismo, Ogum, o Vense d'Or de Demanda. E' colui che va a vincere su ogni tipo di situazione negativa, sia materiale sia spirituale. In questo caso l'azione di Ogum ci difenderà, ci proteggerà e andrà ad afastar, come si dice in portoghese, quindi ad allontanare che cosa? Andrà ad allontanare le basse entità, vale a dire gli spiriti ossessori, gli spiriti larvali, le entità larvali, che ci danno problemi, che ci danno ovviamente grossi problemi. E spesso queste entità si annidano ovunque, ma spesso il loro luogo favorito è la nostra camera da letto. E' da lì che molto spesso ovviamente noi ci svegliamo anche molto stanchi o comunque dormiamo molto male, abbiamo risvegli, abbiamo anche a volte situazioni che possono anche sfiorare, che ne so, situazioni di natura spirituale, quindi sentire anche rumori in camera, sentire presenze, tutto questo è dovuto in genere proprio a una infestazione larvale o comunque di spiriti ossessori, che in genere sono spiriti anche di defunti che continuano a vagare e si attaccano al nostro campo energetico. Per fare questo lavoro, che è molto semplice ma molto poderoso, con l'aiuto di Ogum, Pai Ogum, San Giorgio o San Giorgio, ci serve un bicchiere di acqua pura. Il bicchiere può essere anche stato usato, l'importante è che voi lo prendiate e lo laviate molto bene con acqua, sale e sapone. Lavatelo abbastanza a lungo in modo da comunque togliere tutte le varie vibrazioni, poi lo sciacquate, lo asciugate e potete lavorarci. Quindi si può fare anche con un bicchiere che non è vergine, che è comunque di casa nostra. Un bicchiere con della pura acqua o di bottiglia o anche del lavandino, va benissimo, l'acqua potabile. E cosa dell'aglio, tre spicchi di aglio, chiaramente un coltellino per lavorare e come offerta devozionale energetica a Ogum si offre una candela rossa. Perché questo darà una grande forza al lavoro, darà ovviamente un asce diverso al lavoro, una benedizione potente al lavoro. Il rosso è un colore in assonanza con Pai Ogum. Quindi io vi consiglio di usare una candela rossa, come sempre a cera piena, che sia a stilo, che sia più piccola. Ora non quelle piccoline da te, usate magari un candelotto, va bene lo stesso. A Ogum si offre una candela rossa. Chiaramente chi proprio non riesce, veramente non riesce nemmeno a trovare in un negozio o nemmeno online, anzi mi correggo, online si trova tutto in realtà. Delle candele rossa nella forma emergenziale può usare la candela bianca, per Pai Ogum, per padre Ogum. Questa entità così potente, raffigurata non a caso con il sincretismo di San Giorgio. Perché? Perché San Giorgio trafigge con la sua arma, la sua lancia di ferro, esattamente come Ogum è il dio anche del ferro, delle armi, trafigge la simbolica forma del dragone che rappresenta il male, le cose maligne, malevoli. Non rappresenta, è una forma ovviamente simbolica. Quindi noi andiamo a lavorare per disinfestare noi stessi e disinfestare soprattutto la camera da letto, sia di adulti sia di bambini. Anche i bambini sono molto spesso preda di situazioni che poi magari si convertono in angosce notturne, in incubi, anche in situazioni dove il bambino piccolo che possa essere va giù anche a livello morale, va giù a livello di tante cose. E questo succede anche a noi. Certamente prima si consulta un medico, è ovvio, però dal punto di vista della spiegazione ovviamente spirituale, queste situazioni spesso sono molto strettamente collegate a entità parassite, a entità che ci succhiano l'energia. Allora, come si procede? Mettiamo un attimo da parte il bicchiere d'acqua, tre spicchi di aglio, li andiamo a sbucciare perché non ci deve stare ovviamente la buccia, devono essere al vivo, quindi li sbucciamo tranquillamente o a mano, io faccio col coltellino in questo caso, e andiamo, andiamo a togliere la buccia. Mentre che la sto togliendo vi dico e vi ripeto che le bucce di aglio non si dovrebbero buttare, anzi, si dovrebbero conservare. Tutte queste buccette che poi noi buttiamo via nella nostra cucina, si può dire, quotidiana, non buttate via le bucce di aglio, mettetele in un barattolino, perché sono estremamente utili per fare dei bagni purificatori, sul canale c'è già anche il video, sono estremamente utili per essere defumate, cioè messe su dei carboncini, e fare proprio delle defumazioni purificatorie. Quindi la buccia di aglio non è una cosa da buttare, è una cosa da utilizzare, perché è molto molto potente, molto interessante, e ha una grande valenza energetica. Allora, intanto, se c'è poi la puntina la potete togliere, il germoglio, bastano tre spicchi di aglio, aglio sano, ovviamente, prendete del buon aglio, e andiamo a sbucciare. Mentre finisco di sbucciare, vi dico un'altra cosa fondamentale, importante, questo lavoro si fa in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno, in qualsiasi luna, in qualsiasi orario, non c'è questo vincolo, perché andiamo a lavorare, come dico sempre, con entità che vanno oltre anche i loro giorni magari dedicati, che vanno oltre le lunazioni. Quando abbiamo una necessità, un'urgenza, l'entità lo capisce molto bene, e la sua energia e la sua forza vanno oltre le lunazioni. E quindi questo lavoro potete farlo sempre, anche per lunghi periodi, se ciò poi si rivela necessario. Prendiamo il bicchiere di acqua, molto semplicemente, mettiamo dentro i tre spicchi di aglio, qui, così, e andiamo ad offrire questo lavoro a Ogum, Ogum, Opai Ogum, Padre Ogum, accendendo, ovviamente, in suo onore e per suo omaggio, e per dare forza al lavoro, una candela rossa, eh? Vedete la bianca, ma questo è solo proprio per chi non riesce a trovare la candela rossa. Quindi potete metterla sul vostro piano di lavoro, tranquillamente, potete metterla in una stanza, non c'è problema, potete metterla dove volete, la fissate, ovviamente, e la offrite a Ogum, Salve Ogum, o meglio, il saluto sarebbe questo, e vorrei che lo imparassi, perché è il suo saluto, il suo oricchi, Patakori Ogum, Patakori Ogum, Patakori Ogum, e poi anche a parole vostre, Salve Padre Ogum, Salve Padre Ogum, Salve Padre Ogum, Salve Guerriero, Salve Grande Guerriero, Grande Difensore, Tu che distruggi il male, Padre Ogum, ti offro questa candela rossa, accesa ovviamente, e la mettete lì, ti offro questo lavoro, questo bicchiere d'acqua, dove stanno questi tre spicchi di aglio, Padre Ogum, con la tua potenza, il tuo asce, consacra questo lavoro, e fa sì che ogni entità, entità spirituale negativa, quindi che ogni larva, che ogni entità che mi ossessiona, vada via, si polverizzi, che la sua vibrazione negativa entri in questo bicchiere, e lì rimanga intrappolata, senza più dare problemi, fastidi alla mia persona, al mio campo energetico, alle mie cose, al mio benessere spirituale, materiale, potete parlare di tutto, ma dovete dire a Padre Ogum, che lui, vi liberi, da tutte quelle entità larvali, da quelle entità, chiamate ossessori spirituali, che stanno, nella vostra vita, e in particolar modo, nella vostra camera da letto. Una volta che, avete consacrato, questo lavoro a Padre Ogum, potete anche fare un segno di croce, se volete, o tre segni di croce, eh, a Padre Ogum, prendete il bicchiere, perché è già pronto, diciamo così, il lavoro, e ve lo ponete in camera da letto, possibilmente sul comodino, oppure sul cassettone, al limite, o anche potete metterlo sotto il vostro letto, sotto il vostro letto. In genere, questo lavoro, si tiene per sette giorni, eh, per una settimana, dal momento in cui lo fate, contate sette giorni. Però, però, scusate, potrà accadere, che osservando, perché lo osserverete, chiaramente, voi, eh, lontano da occhi indiscreti, osservando sia l'acqua, osservando sia gli spicchi di aglio, è possibile che in casi dove c'è una bella infestazione, voi vedete che l'acqua cambia il colore, o diventa scura, o diventa nera, o prende dei colori comunque sullo scuro, e potrete vedere anche che l'aglio muta, quindi diventa molto, cambia colore anche l'aglio. Quindi, se voi vedete che l'aglio, prima dei sette giorni, e l'acqua, eh, tutto ciò che sta qua dentro, va a mutare, va a cambiare colore, va a fare bolle, va a fare, eh, velature, va, sostanzialmente si capisce comunque dal cambio di colore che va a scurire. Non aspettate sette giorni, prendete subito questo lavoro, e andate a gettare tutto, eh, tutto quanto via fuori. Se possibile, gettate tutto in strada, eh, aprite la porta, uscite, gettate tutto in strada, altrimenti, se avete un po' di natura, gettate tutto in natura, chi non ha queste possibilità, può prendere gli spicchi di aglio, avvolgerli in un pezzo di giornale, e poi depositarli, eh, il più possibile in cassonetti fuori di casa, eh, magari è molto meglio che nella spazzatura di casa, perché si sono caricati di tante energie, mh, poco buone, diciamo così. Quindi, eh, l'acqua, eh, e tutto quanto, in prima istanza, si dovrebbe buttare tutto in strada, possibilmente, o nella natura, quindi, nel giardino, nella terra, sotto un albero, fuori, poi chiaramente, chiaro che, eh, è logico che andate a disinfettare, diciamo così, a purificare ancora, ancora il bicchiere, con acqua, sapone e sale, e ripetete, ripetete il lavoro, tranquillamente, perché il lavoro, probabilmente, eh, andrà ripetuto, è difficile che il lavoro, eh, già, comunque sia attivo dalla prima volta, vada a togliere tutto la prima volta, a volte c'è bisogno di ripeterlo per un po' di volte, di fila, e vedrete, comunque, già molto chiaramente, la differenza, già dalla prima volta, comunque, ma finché, comunque, l'acqua, eh, continua a rimanere molto scura, o gli spicchi, marciscono subito, questo vuol dire, che, ci sono, sempre, delle vibrazioni da, da, da scacciare, o meglio, dell'entità da scacciare, cosa fate? Rifate il lavoro, e lo fate quante volte volete, sia in camera vostra, se avete poi, anche altre persone che hanno, che sospettate, abbiano questo problema, potete farlo anche in camera di queste persone, però, vi raccomando, discrezione, oppure, vi raccomando, che la persona sia d'accordo, nel caso dei bambini, è più semplice, logicamente, perché si può mettere sotto il letto, dalla parte dove si dorme, e il bambino, insomma, non credo che vada sotto il letto, a frugare, molto difficile, oppure, potete mettere anche il bicchiere, se si tratta di bambini, magari, se non sul comodino, sul cassettone, potete metterlo in cima, di un armadio, eh, e questo comunque funzionerà, ugualmente, quindi, carissimi e carissime, l'ultimo appunto, è per ripetere, è per dire, comunque, dare un consiglio, alle persone, che non hanno la possibilità, poi, di buttare, di disfarsi, di questa roba qua, in natura, o in strada, allora, come si fa? Si tirano fuori, i spicchi di aglio, si mettono in un cartoccio, di carta, e si buttano, nel cassonetto, che sta più prossimo, a casa nostra, non nella spazzatura di casa, non va bene, l'acqua, si può buttare, eventualmente, nel water, e si tira immediatamente, lo sciacquone, poi, si va, a ripetere il processo, che come vedete, è molto, molto semplice, si prende, di nuovo, il bicchiere, ben pulito, con sale, per scaricarlo, molto bene, sale, sapone, acqua, rimettiamo, di nuovo, dell'acqua pulita, pura, offriamo, di nuovo, una nuova candela, a Ogum, a Pai Ogum, Patacori Ogum, salve Padre Ogum, tu che distruggi, ogni negatività, tu che ci difendi, gli offriamo, di nuovo, ovviamente, una candela, che può stare, anche, in un'altra stanza, prendiamo, il nostro bicchiere, che gli abbiamo, consacrato, chiedendogli, proprio, specificatamente, di distruggere, larve, e spiriti ossessori, e lo andiamo, a rimettere, in camera nostra, e così, questo processo, si ripete, per le volte, che sono, necessari, e che vedrete, ovviamente, monitorandolo, proprio voi, stessi. Carissimi amichi, carissime amiche, carissimi amici, questo lavoro, è molto buono, può dare, veramente, una grossa mano, comunque sia, se non risolverà, al mille per mille, dipende, il tipo, anche, di gravità, di infestazione, va comunque, a abbassare, molto, molto, la carica, di queste entità negative, che, logicamente, non sopportano, questo tipo, di elementi, specialmente, poi, consacrati, con la scè, di Ogum, o di San Giorgio, se volete chiamarlo, anche San Giorgio, potrebbe, andar bene, allo stesso, eh, perché, come ripetiamo, nell'America Latina, nel Brasile, gli antichi dei, sono stati, tutti, comunque, sincretizzati, con figure, di santi, di madonne, di, appunto, di figure, fondamentalmente, cattoliche. Quindi, confidando, veramente, nel potere immenso di Ogum, che è, un orisha potentissimo, abbiate fede, abbiate forza, eh, non rimandate, se pensate, di avere questi problemi, eh, correte a ripari, come vedete, non ci vuole niente, ci vuole un poco di aglio, che, bene o male, abbiamo tutti, ci vuole un bicchiere d'acqua, ci vuole una candela, eh, e la vostra fede, e il vostro, ovviamente, rispetto. Seguite i passi, così come sono stati, eh, illustrati nel video, sperimentate, come dico sempre, perché ognuno deve sempre, fare il viaggio della sperimentazione, su se stesso, o su se stessa, ma se voi avete fede, se comunque avete una spiritualità, se voi credete, che queste cose esistono, e se le fate con rispetto, l'entità, vi vanno a dare delle mani, che neanche vi immaginate, quindi, potete avere tanti culti, perché non è detto che, dovete ovviamente, credere solo ai culti afro-brasiliani, si può fare anche, se avete anche un altro culto, non influisce minimamente, ma fate questo lavoro, provate questo lavoro, e poi mi saprete, come sempre, dire, perché ovviamente, mi contattate, mi telefonate, mi scrivete, e via discorrendo. Quindi, carissimi amici, carissime amiche, vi auguro di non averne bisogno, ma nel caso che ci sia, la problematica, c'è sempre comunque, una soluzione, a ogni cosa c'è una soluzione, in realtà. Bisogna avere a volte, la voglia di cercarla, la volontà, la fede, e a volte anche, rompere un po' gli schemi, e dire, perché no, perché no. Molte persone sono spaventate, molte persone sono, non è che non credono, ma sono condizionate. Siccome queste pratiche, sono vecchie come il mondo, motivo ci sarà. Quindi, provare, potrebbe anche davvero, non costare nulla, effettivamente, ma se voi poi, sperimentate con fede, ancora meglio, vedrete proprio, il cambiamento. E il cambiamento, sarà probabilmente, che queste entità, vanno via, o comunque, sia la loro carica, diventa abbastanza innocua, e tutti i disturbi correlati, si vanno veramente, a disfare, ad abbassare, il vostro tono energetico, il vostro umore, il vostro sonno, va a tornare regolare, perché, ovviamente, c'è stata un'azione, di esorcismo, se vogliamo dirlo così, o comunque, di forte purificazione, e questo, grazie ad Ogum, così come anche, altre entità, che sono, nella linea, della difesa. Benissimo, per adesso, io vi saluto, vi auguro, buon lavoro, vi mando, tantissimo, a sciencio, e tantissima, benedizione, tantissima, energia positiva, e vi aspetto, nel prossimo, video. Un saluto, da Simonetta.